Il palio di Siena che si disputerà il 16 agosto è dedicato al voto alle donne, alla concessione del diritto al voto alle donne e saranno due femmine le cavalle più attese in questa carriera preziosa Penelope, vincitrice a luglio e Morosita prima che ha vinto già due pali ed è un ritorno in grande stile. Altri cavalli forti sono stati comunque scelti dai capitani che hanno voluto un livellamento cosiddetto in alto mentre a luglio aveva prevalso un livellamento in basso e quindi altri cavalli vincenti come Mississippi e Oppio fanno parte del gruppo dove spicca una solo esordente, il re Misterio. Per il resto si è puntato sul sicuro con Mocambo, Smeraldo Lunese, Reinhard King, Ondina Prima e Porto Alabe. Tutti cavalli che oltre a quelli già vittoriosi hanno disputato il palio. Poi ha deciso la sorte, quattro cavalli più attesi, quelli già vittoriosi, sono andati alla lupa, preziosa Penelope, la cavalla che ha vinto ancora nella lupa il palio e luglio scorso, Morosita prima, l'unica che ha vinto due carriere al Drago e quindi Mississippi, la Tartuca e Oppio all'Aquila. Sono un po' da comprimare tutti gli altri, Porto Alabe e la Civetta, Ondina Prima, Pantera, Reinhard King, Giraffa, Smeraldo Lunese, Bruco, Mocambo Nicchio e l'unico esordiente, Re Misterio, a Leocorno.